Gentili telespettatori, ben ritrovati. Oggi parliamo di Maruggio, piccolo comune della provincia di Taranto, uno dei 62 comuni pugliesi che i prossimi sabato 8 e domenica 9 giugno dovranno rinnovare il consiglio comunale. In studio con noi Massimo 40, candidato sindaco della lista Maruggio per tutti, 40 sindaco, per parlare appunto di questa ridente cittadina che si trova praticamente a due chilometri dal Marionio, con la sua Campomarino, località molto conosciuta come luogo turistico. Ben trovato, grazie per aver accettato di essere qui con noi. Innanzitutto parliamo un po' di lei, ci racconti qualcosa, sappiamo che è ingegnere, 48 anni a settembre, qualcos'altro. Di professione sono un libero professionista, sono sempre stato a Maruggio tranne il periodo universitario e nella mia vita ho fatto sempre volontariato per il mio territorio, quindi ho iniziato sin da piccolo nella parrocchia, ho fatto il mio percorso in parrocchia, poi da grande sono passato nell'Arroloco e anche lì ho fatto il mio percorso da semplice socio, poi da consigliere, insomma alla fine da vicepresidente e poi sono diventato presidente e ho fatto questo ruolo per ben 15 anni. Adesso ho dovuto lasciare chiaro per incompatibilità, ma la Proloco è il mio cuore, senza la Proloco sto male perché comunque sono cresciuto con lei. All'interno della Proloco abbiamo fatto numerosissimi progetti che hanno riguardato il territorio, più importante la famosissima ormai strada dei sapori e dei sapori che non è solamente una sagra ma è tutt'altro e lì pian piano ho maturato l'idea di fare un'altra avventura un po' per motivi di carattere, io sono convinto che comunque anche nelle associazioni ci deve essere un'altra alternanza e quindi sapevo che questo era il mio ultimo mandato all'interno della Proloco come presidente. Candidarmi al sindaco è stato poi un percorso successivo a quello della presidenza della Proloco, tutto qua. Ecco, quando è entrato proprio quest'idea, diciamo ha immaginato di poter appunto percorrere questa strada? Quando è stato il momento? Il momento fondamentale è stato 5 anni fa quando a Marugio non c'è stata una lista di opposizione lì già avevo maturato, avevo ben chiara l'idea che delle successive elezioni il mio doveva avere un ruolo io poi di qua dire se fosse consigliere o candidato sindaco o altro ruolo non lo sapevo comunque dovevo impegnarmi per il mio paese e già da lì ho maturato quest'idea è chiaro che nel corso degli anni, piano piano, un po' con delle riunioni, un po' perché ci si incontra si parla, si trovano persone che condividono il tuo parere, il tuo pensiero e quindi da lì abbiamo iniziato con altri amici un percorso per formare questa lista. Come è stato per voi cittadini vivere questo stato, la mancanza di opposizione, la mancanza di pensiero critico all'interno delle decisioni dell'amministrazione? Da cittadini come l'avete vissuto? Malissimo, non c'era confronto, non c'era niente, non potevi confrontarti su niente perché comunque l'unica forma di confronto erano alcune saltuarie, riunioni che si facevano al comune per delle determinate tematiche, ma erano per lo più delle prese d'atto perché comunque era già tutto stabilito quindi sentivamo proprio questa esigenza, quella del confronto, quella del dire una voce diversa dal coro quindi volevamo proprio fare questo, poter parlare semplicemente, da lì è nato poi tutto il resto. Ritiene che la democrazia sia stata in qualche maniera un po' messa da parte, accantonata? Devo essere onesto, non per volere dell'amministrazione uscente, perché comunque se è mancata un'opposizione è stata anche per delle pecche di altri, quindi anche mia voglio dire, mi ci metto pure io in prima persona potevamo cinque anni fa fare qualcosa, quindi su questo sì, è mancato un po' di democrazia. Quindi lei è candidato sindaco di una lista civica formata da 12 persone, come sono state scelte queste persone? Allora, queste persone sono il sunto di tante riunioni, di tanti discorsi, molto spesso siamo partiti proprio dal basso, ecco, cioè l'idea è partita proprio dal confronto, quindi andare proprio, partire da zero quindi questo confronto ha fatto sì che abbiamo conosciuto tante persone, residenti e non, abbiamo raccolto delle idee in una prima fase non sapevamo neanche a cosa potessero servire queste idee, però le abbiamo raccolte poi abbiamo iniziato una frase proprio di trasparenza, cioè abbiamo iniziato a raccogliere ciò che di buono era presente in questo confronto. Da questa trasparenza poi abbiamo mirato ad un'alternanza, proprio per offrire alla cittadinanza quello che noi avevamo in mente. È chiaro che all'interno della nostra lista civica, lo specifico, sono presenti numerose professionalità io sono ingegnere, però ci sta l'idraulico, ci sta la docente, ci stanno tante professioni, ci sta il sotto ufficiale della Marina ci stanno tante professioni e insieme abbiamo collaborato per mesi, devo essere onesto, per mesi siamo stati lì a sbattere la testa sul nostro programma. Logicamente c'è chi ha lavorato un po' di più, un po' di meno, però comunque il terreno abbiamo irrorato un terreno, ora vediamo se dopo aver piantato i semini questi frutti genereranno una pianta L'impegno politico e sociale come viene visto a Marugio? Anche un po' ce lo stava raccontando è stato quindi difficile coinvolgere tutte queste professionalità? Allora, siamo venuti da una lista unica, quindi da una sola maggioranza, quindi molte persone avevano anche paura di intraprendere un discorso con noi, un confronto con noi, quindi è stato molto lungo Pian piano però la gente ha iniziato a capire che questo semplice confronto, questo semplice dialogare con noi poteva portare dei frutti La difficoltà maggiore è stata poi alla fine, devo essere onesto, quella di togliere delle persone della lista perché poi siamo passati da una fase in cui eravamo pochi ad una fase in cui eravamo tanti E' nato l'entusiasmo E' nato l'entusiasmo e quindi abbiamo dovuto poi mescolare un po' le carte e capire chi in termini numerici non in termini di contenuti e competenze potevano dare a noi il supporto giusto quindi è stato poi un discorso di numeri La sua lista, Maruggio per tutti i 40 sindaco, dove si colloca, chi vi sostiene? Allora noi intanto siamo un'alternativa e quindi non ci collochiamo in uno schieramento politico di destra, centro e sinistro Siamo un contenitore, quindi all'interno abbiamo tanti simpatizzanti di partiti ma questo non vuol dire che abbiamo uno schieramento ben preciso, assolutamente no Cosa non le piace del paese attualmente e magari cosa cambierebbe immediatamente? Immediatamente un po' di decoro Perché comunque a maggio 2024, 15 giorni prima delle elezioni, ci sono ancora interi quartieri con delle erbacce con una segnaletica obsoleta, con tonnellate di ferro che stanno buttate lì per segnaletiche vecchie Manca l'urbanizzazione primaria, i marciapiedi, mancano le strade Bisogna lavorarci sopra Ci sono interi quartieri ancora abbandonati quindi dobbiamo muoverci subito per dare un po' di decoro al paese, nell'immediato Ecco, parliamo un po' del suo programma, quali sono i punti salienti? Allora, il programma possiamo dire che è composto da due fasi particolari C'è una prima fotografia che è Maruggio ai giorni d'oggi quindi c'è questa foto, Maruggio ha questi problemi Poi abbiamo due fotografie successive che è Maruggio nel breve periodo e Maruggio nel medio-lungo periodo Quindi abbiamo proposto degli interventi nel breve periodo e degli interventi nel medio-lungo periodo Questi interventi nel medio-lungo periodo, logicamente, sono a carattere di programmazione perché comunque non possiamo pensare che noi dobbiamo arrivare a governare Maruggio per i prossimi 25 anni sarebbe assurdo Intanto però possiamo programmare delle soluzioni, dei lavori per i prossimi 5 anni Quello lo possiamo fare E quindi se da un lato nel medio-lungo periodo possiamo iniziare immediatamente a programmare Maruggio sotto un aspetto sostenibile il carattere ambientale, il carattere della sostenibilità ambientale è il fulcro della nostra lista Quindi partiamo da questo Non siamo ambientalisti Però siamo per uno sviluppo del territorio che soddisfa, proprio come dice la parola di sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni attuali senza compromettere che le future generazioni possano soddisfare i propri bisogni Quindi noi puntiamo da lì E' chiaro che nel breve periodo dobbiamo fare degli interventi E quindi immediatamente una strutturazione urbanistica del territorio perché abbiamo un piano regolatore vecchio di 50 anni ed è 71 Dobbiamo immediatamente mettere mano ai piani attuativi perché c'è una discrepanza tra la parte grafica del vecchio programma di fabbricazione con la realtà e quindi dobbiamo immediatamente mettere mano alla parte urbanistica Continuare con i lavori pubblici perché sono quelli fondamentali strada, acqua, fogna, pulizia delle strade eccetera eccetera e poi guardare ad oltre Sociale, famiglie, disabilità Sulla famiglia ci stanno numerose osservazioni che abbiamo fatto E quindi vogliamo toccare dei temi che ancora non sono ben, permettetemi il termine, masticati all'interno delle famiglie Quindi tematiche tipo l'adozione, tipo l'affidamento Tematiche della procreazione medicalmente assistita Tematiche della disabilità Tematiche anche dell'accompagnamento delle famiglie che hanno portatori di disabilità all'interno delle stesse Quindi dobbiamo toccare dei punti che sono ancora un pochino oscuri E quindi che creano vergogna E quindi noi lì dobbiamo dare una mano a quelle famiglie che hanno bisogno Ecco, lei dice che non è ambientalista Ma è sostenuto, sappiamo che ci sono anche associazioni ambientaliste che la sostengono Tengono la lista Spieghiamo bene, perché questa denominazione Maruggio per tutti? Sembra che ci sia stata qualche esclusione Come l'avete interpretata? Maruggio per tutti perché siamo convinti che gli stakeholder non sono solamente residenti Ma sono anche quelle persone che pagano le tasse, che hanno una seconda casa a Maruggio Non sono residenti ma che devono avere anche loro una voce in capitolo Quindi sicuramente appunto essendo una, possiamo dire, località turistica Campomarino è importantissimo per Maruggio Voi punterete appunto Tanto sul Campomarino, certo Metteremo mani un po' al Campomarino Attraverso una riqualificazione del centro urbano Eliminando tutto quell'inquinamento che si ha all'interno del centro urbano di Campomarino Proporremo dei parcheggi alternativi all'unico parcheggio che c'è Cercheremo di veicolare il traffico interno verso l'esterno Cercheremo di dare decoro ad un centro urbano che al momento ha grossissime difficoltà Quindi aiutando i commercianti, aiutando i lavoratori del mercatino etnico Insomma aiutando un po' tutti Le realtà, non solo Maruggio, un po' tutto questo territorio Sono sempre più svuotate di giovani Avete delle idee precise per far rimanere i giovani nel nostro territorio? Quali direttrici di sviluppo? Allora Maruggio dobbiamo dire una cosa Sta avendo un calo demografico notevole Questo purtroppo bisogna dirlo Quindi i giovani cominciano a essere pochi giovani E quei pochi si formano fuori e rimangono fuori Quindi nel medio-lungo periodo dobbiamo cercare di far rientrare questi giovani E questo si può fare solo e soltanto attraverso una politica del lavoro E diciamo imprenditoriale innovativo Quindi dobbiamo cercare quanto più possibile di far formare i nostri giovani all'estero All'esterno, perché comunque lì è l'unico modo per potersi anche emancipare E tornare a Maruggio ed investire Investire attraverso l'imprenditoria giovanile Questa è l'unica forma di ritorno che io vedo possibile Cosa abbiamo dimenticato del suo programma? Cosa ha più a cuore? Oltre naturalmente non si può sintetizzare tutto Ho a cuore gli ultimi Gli ultimi devono essere quelle persone che devono essere per primi aiutati Quindi un po' mi ricollego a Papa Francesco Ma non voglio certo paragonarmi a lui in nessun modo Però dobbiamo rivolgere il nostro sguardo agli ultimi Perché Maruggio ha ancora tanti ultimi E a loro devo dedicare il mio tempo da sindaco Se vuole dare un messaggio, guardando quella telecamera, ai suoi concittadini Cari amici, cari fratelli di questa bellissima terra Noi ci abbiamo messo la faccia Insieme ai miei compagni di viaggio Ci conoscete Chiediamo il vostro aiuto Perché è l'unico modo per poter dare voce Come ha detto Bocanzi agli ultimi Quindi è una promessa che vi faccio Inizieremo da voi, dagli ultimi Ringraziamo il candidato sindaco Massimo 40 della lista Maruggio per tutti Grazie a voi E ricordiamo ancora una volta che si vota sabato 8 Le urne saranno aperte a partire dalle 15 fino alle 23 Mentre domenica 9 giugno sarà possibile recarsi ai seggi Dalle ore 7 fino alle 23 Vi auguriamo naturalmente buon voto E grazie a voi per averci seguito Grazie Grazie